Amano definirsi un borgo e non solo una frazione. Nel libro del ricercatore Edoardo Bavagnoli, Sant'Antonio a Trebbia, storia di un borgo e di una comunità, emergono l'indipendenza e l'orgoglio dei residenti di questo quartiere cittadino che ha come fulcro principale la parrocchia. L'opera è stata presentata nel circolo Il Carroccio in via Castellana, ripercorrendo le principali tappe che hanno portato all'odierna conformazione di Sant'Antonio, dal periodo medievale, incentrato soprattutto sul monastero, fino all'accorpamento definitivo al comune di Piacenza agli inizi del Novecento. Le tappe fondamentali sono sicuramente la fondazione del monastero, la fondazione dell'ospedale Antoniano e la fondazione dell'ospedale di Piacenza perché di fatto con la fondazione dell'ospedale di Piacenza rimangono in funzione degli oltre 30 ospedali che c'erano a Piacenza alle ora soltanto Sant'Antonio e San Lazzaro. Non solo storia però perché la sostanza di Sant'Antonio sono i suoi residenti, quelli che vivono la frazione con manifestazioni, eventi e tanto volontariato. Quando io sono arrivata qua dieci anni fa ero un po' in una situazione non bella per me. Sono stata accolta e è stato bello per me perché mi ha come risollevato. Ero spaesata, uscivo da una situazione squallida, triste e qui mi sono ripresa veramente e mi trovo bene. Per me è una famiglia. Prima era proprio questo, era Sant'Antonio, la via Emilia e qualche paese, qualche casa nella campagna. Allora c'erano molti contadini, c'erano tante case fuori. Io mi sono trovata subito bene. E rispetto a 60 anni fa cosa non c'è più di Sant'Antonio oggi? Purtroppo ci sono perse le persone, le testimonianze, le persone che avevano tanto da raccontare nei loro tempi molto belli, tra i quali la Vilma Solenghi, la nostra famosissima Vilma Solenghi che qua era un'istituzione per Sant'Antonio con le sue cantate, la sua allegria e la sua cultura di Sant'Antonio. Grazie a tutti.